Nelle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Pescara con un grande spiegamento di forze hanno dato esecuzione 10 ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono a vario titolo responsabili di detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intera attività investigativa condotta dal norm della compagnia di Pescara è scaturita dall'accertamento di attività di spaccio al minuto nei quartieri di Grancitalia e Fontanelle e successiva individuazione delle posizioni attive nelle attività di approvvigionamento con provenienza del materiale dall'area balcanica e destinazione le famiglie storicamente dedicate allo spaccio. Tra gli arrestati a Montesilvano due coniugi grossisti nel commercio dello stupefacente cui viene contestata l'aggravante dell'essersi avvalse nelle leciti attività dell'ausilio di minori, un mercato fiorente con un giro di affari di decine di migliaia di euro, a cappelle sul tavo imparentata con la prima individuata un'altra coppia attiva nello smercio di importanti quantitativi di cocaina ed eroina a vari dettaglianti operanti sul territorio pescarese e aree limitrofe. Le tecniche di occultamento erano le stesse per entrambe le famiglie, cioè l'interramento di grossi quantitativi di stupefacenti in aree e di campagna nei pressi delle abitazioni. Gli arresti sono stati eseguiti a Pescara, Montesilvano, Cappellè sul Tavo, Vasto Fano e San Benedetto del Tronto. Il tenente Giovanni Rolando, comandante della compagnia di Pescara. È un'operazione che è durata dal mese di novembre del 2020 fino quasi alla fine del 2021. Un'organizzazione piramidale che ha visto coinvolte 28 indagati di cui stamattina 10 tratti in arresto e portati in vari carceri d'Italia. In precedenza erano già state tratte in arresto 6 persone, tutte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al coinvolgimento di alcuni minorenni appartenenti a due gruppi familiari tra gli indagati. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari della procura di Pescara, dottoressa Di Carlo, richiesto dal pubblico ministero, dottor Luca Sciarretta. È stato arrestato un ragazzo di origini albanesi che faceva da corriere dall'area balcanica fino alle province di Pescara, interessanto anche l'area di Montesilvano. Stamattina nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 15.800 euro in bangonoti di vario taglio. Quanto materiale è stato sequestrato? Quanto stupefacente? Tutta l'attività investigativa, oltre 28 kg di stupefacenti per un valore di circa 800.000 euro.